In collaborazione con Glamvision e Caffacli. Si alza il sipario sul Festival dell'Economia. La sostenibilità è centrale, ma evitare il rischio che diventi una moda. I giovani protagonisti di questa edizione. L'Active Hotel Santa Lucia di Torbola è il miglior albergo d'Italia. La classifica è di TripAdvisor. TripAdvisor. Giro d'Italia, Filippo Zana, Trionfa, Ivaldi, Tolto. Attesa per la tappa regina con l'arrivo alle tre cime di Lavaredo. I difetti visivi sono tanti. Miopia, stigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam. Con Glamvision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista e poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te.